Caldaia Blue Energy 25 kW, bruciatore a pellet automatico in accensione, spegnimento e pulizia. Modulazione 5 tagli di potenza. La caldaia ha un silos da 300 litri. Le dimensioni della caldaia sono profondità corpo caldaia 80 cm, al netto del bruciatore, all'ordo del bruciatore 120 cm, larghezza corpo caldaia 50 cm, quadro di gestione elettronica, altezza corpo caldaia 110 cm, al netto del quadro elettronico, 125 cm all'ordo del quadro elettronico, questo è quello che succede all'interno, bruciatore a chiama orizzontale, 3 giri fumo verticali autopulenti, particolare, cassetto da quota ceneri, scuoti turbolatori manuale,